dal vangelo secondo marco in quel tempo di sabato gesù passava tra i campi di grano e i suoi discepoli mentre camminavano si misero a cogliere le spighe i farisei dicevano guarda perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito ed egli rispose loro non avete mai letto quello che fece davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame sotto il sommo sacerdote abiatar entrò nella casa di dio e mangiò i pani dell'offerta che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti e ne diede anche ai suoi compagni e diceva loro il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato anche oggi il signore ci invita a fuggire il pericolo di dare più importanza alla forma che alla sostanza ci chiama a riconoscere sempre di nuovo quello che è il vero centro dell'esperienza di fede cioè l'amore di dio l'amore del prossimo purificandola dall'ipocrisia del legalismo e del ritualismo facciamo una sciame di coscienza per vedere come accogliamo la parola di dio alla domenica l'ascoltiamo nella messa se l'ascoltiamo in modo distratto o superficiale e la non ci servirà molto esempio l'intercessione della vergine maria ci aiutino a onorare sempre il signore col cuore testimoniando il nostro amore per lui nelle scelte concrete per il bene dei fratelli grazie a tutti